allora buongiorno buongiorno christian raimo siamo qui a quello che dovrebbe essere il caffè degli autori alla sera del libro per ragazzi di bologna e che invece stiamo ognuno a casa ma è inutile che ci piangiamo addosso io christian ti avevo già invitato che era l'anno scorso quando di nuovo stavamo chiusi in casa perché con la fiera è già da un po di tempo che ci stiamo dicendo cerchiamo di focalizzare la nostra attenzione sulla scuola e te mi sembri l'interlocutore più non i più in assoluto ma insomma tra i più interessanti perché oltre a scrivere e avere una tutta una tua intelligenza letteraria hai un intelligenza scolastica perché insegni in un liceo di roma se non se non sbaglio e anche un intelligenza politica perché hai una sensibilità e attività sei assessore alla cultura in un municipio di roma dunque sono come dire tre intelligenza che messe insieme non voglio esagerare però che messe insieme possono dare un sacco di spunti spunti interessanti spunti dei quali si legge abbastanza spesso sulle pagine di internazionale i tuoi interventi che sono molto spesso focalizzati sul sulla scuola ma prima di entrare nel vivo della questione rapidamente una una domanda su com'eri te lettore da da bambino perché la nostra attenzione è sui bambini e sui libri bambini e ragazzi e sui libri per bambini e ragazzi ma intanto grazie io ho accettato di fare questi dialoghi su con voi soltanto se venivo a bologna perché era un modo come dire una scusa per guardare per curiosare nella fiera di bologna che è un posto sempre pieno di di sorprese di conoscenza e che penso che sia appunto uno dei luoghi più importanti da un punto di vista proprio della formazione intellettuale italiana non soltanto appunto per addetti ai lavori ancor meno per soltanto per addetti ai lavori che riguarda la letteratura dei per bambini per risponderti velocemente allora scusa quindi però l'invito rimane ancora valido tanto non credo che fra un anno problema della scuola sarà risolto quindi devo continuare a parlare immagini allora provo a risponderti con un'unica risposta diciamo le cose che mi dici nel senso che io faccio molte cose diverse e questa diciamo in parte è un come dire una necessità e in parte una scelta cioè nel senso ho capito che per provare a fare quello che mi interessa di più e cioè l'intellettuale educatore occorre avere un approccio multidisciplinare quindi non focalizzarsi soltanto appunto su per fare bene il mestiere di insegnante ho capito che bisognava studiare quindi sto finendo un dottorato per fare bene lo studioso ho capito che bisognava anche fare politica e quindi ho accettato di fare l'assessore al municipio alla cultura per fare bene l'assessore al municipio ho capito anche bisognava fare inchieste sulla città e quindi ho capito che per internazionale per l'espresso per repubblica cerco di occuparmi di cose giornalistiche per fare bene il giornalista ho capito che bisognava appunto scrivere cercare di anche fare il critico di narrativa e quindi fare occuparsi più di letteratura per far scrivere bene letteratura ho capito che bisognava fare in qualche modo provare a lavorare anche sulla costruzione sulla produzione di contenuti educativi in sé e quindi mi sono inventato questo progetto a cui tengo molto che si chiama maturadio e fuori programma che sono appunto delle delle piattaforme delle serie di contenuti educativi digitali adesso ne stiamo facendo alcuni anche per bambini che sono straordinari una delle cose più belle che abbia mai ascoltato sono contento insomma di di averla un po ideata io questa cosa eccetera perché per fare contenuti digitali educativi ho capito che mi devo occupare anche di quella che si chiama appunto contrasto la dispersione scolastica quindi hanno inventato un progetto che si chiama base camp che è appunto un progetto si tutte queste cose come dire sembrano dispersive in realtà appunto si tengono l'una con l'altra e a fatica chiaramente insomma è molto impegnativo però ho capito che appunto per fare diciamo politica mi interessa fare a me e quindi in qualche modo mettere al centro dell'impegno politico l'educazione bisogna avere non bisogna fare soltanto l'educatore perché chiaramente appunto tutto questo poi non riesce a farci vedere come è fatto il mondo e se quindi provo a rispondere anche all'altra domanda che è più tenera che tipo di lettore ero da bambino ecco forse ho imparato lì a un po essere così ho avuto la fortuna di avere un mio nonno che era neanche la quinta elementare che mi ha insegnato a leggere e scrivere con un metodo suo che si è inventato lui veramente come dire geniale e quindi io a tre anni in realtà sapevo già leggere e scrivere e con appunto la meraviglia di poi all'alimentari diciamo come è possibile questo bambino legge e scrive e di fatto come dire è sempre stato un po così cioè nel senso la lettura e la scrittura sono stati il modo il filtro con cui ho guardato la realtà questo è stato anche diciamo un limite perché appunto alle volte c'è chi prende e fa viaggio ecco io diciamo ho sempre preferito mi sono sempre stato abituato a scrivere e a leggere per cercare di conoscere il mondo ancora per me oggi è così cioè nel senso i libri la lettura la scrittura sono veramente il modo in cui io entro in relazione con le persone con con le esperienze con gli oggetti eccetera eccetera e questo penso sia fondamentale oggi è un grande portato della della civiltà di millenaria che noi come dire studiamo a scuola e che oggi non è scontato nel senso che la cultura testuale non è una cultura oggi estremamente gemora abbiamo altre culture appunto la cultura iconica la cultura audio la cultura video soprattutto penso che invece la cultura del testo sia sia importantissima e leggere scrivere sa educarsi a leggere educarsi a scrivere sia veramente centrale per la costruzione appunto di una di un'identità forte di un'identità autonoma soprattutto di un'identità di sé libera ma è entriamo immediatamente a gamba tesa nel nel nell'argomento quanto la scuola aiuta veramente a capire nel profondo questo fatto per fortuna diciamo nonostante tutto la scuola si potrebbe dire che è una grande infrastruttura che regge i colpi di chi lavora e innovare senza capire qual è la vera innovazione della scuola nel senso che la scuola per fortuna è un io appunto appena finito questo dottorato più o meno e diciamo studiato anche la scuola diciamo la storia dell'euro dottorato in storia contemporanea che si è concentrato soprattutto appunto sulla scuola tra la resistenza tra diciamo negli anni tra la fine del fascismo e l'inizio della repubblica e quindi insomma studiando anche la scuola durante il fascismo non era quello il periodo su cui si concentrata la mia tesi di dottorato ma ho capito che anche durante il fascismo quindi anche durante anni in cui appunto il la repressione il controllo sull'istituzione scolastica era così forte poi per fortuna un po la scuola andava per conto proprio un po perché è impossibile governare appunto milioni di insegnanti milioni di studenti e decidere che cosa accade ogni minuto in classe si possono creare appunto franca e sta in pedagogici come appunto si è provato soprattutto negli anni 30 a pensare con la pedagogia fascista ma poi leggevo appunto dei portaci di adolfo herrie che questo grandissimo pedagogista degli anni 20 che viene in italia c'è un bellissimo articolo uscito sull'erre novelle che era una rivista che appunto raccontava l'esperienza educazione nuova negli anni 20 e se ne andava in giro per l'italia tra la scuola della montesca la pizzigoni l'umanitaria le montessori che pur esistevano e nonostante appunto la repressione fascista eccetera eccetera e raccontava una vitalità incredibile anche da un punto di vista dell'innovazione pedagogica e persino quei bambini che facevano il saluto romano sembravano appunto una come dire un mero vezzo chiaramente non era così ma l'autonomia scolastica la possibilità all'interno della scuola anche di trovare gli spazi di libertà ricavandoli da contesti che magari sono spesso repressivi vili autoritari io credo che esista sempre anche oggi è così per fortuna nel senso che non è un buon momento per la scuola per tante ragioni diverse e in questo momento c'è un attacco forte sistemico direi alla scuola del novecento abbiamo pensato che la scuola del novecento non sia più un dispositivo di tra di condivisione dei saperi e quindi oggi pensiamo che si possa fare educazione in tanti modi diversi alle volte mascherando questa giusto desiderio di innovazione di avanguardia di sperimentazione attraverso appunto retoriche scarse scadenti che invece appunto c'erano soltanto l'idea di privatizzare la scuola pubblica di sminuire quelle che sono appunto invece i metodi della scuola che sono dei metodi importanti il metodo storico il metodo filosofico il metodo argomentativo la letteratura nel senso che noi a scuola come dire impariamo dei metodi le cose migliori che ci sono sul piatto cioè nel senso non c'è nulla non è stato inventato nessun metodo migliore rispetto al metodo storico e quindi quando appunto nella scuola si dice che bisogna imparare le soft skill fa ridere cioè nel senso una roba che uno dice ma ma di che cosa stiamo parlando cioè o quando appunto pensiamo che i percorsi di orientamento o anche per esempio quest'anno abbiamo a che fare con l'educazione civica buttata lì 33 ore trasversali educazione civica senza considerare qual è la il contesto in cui appunto di dibattito politico dovrebbero capire che cosa serve questa educazione civica adesso per esempio un'altra delle innovazioni buttate lì senza senso è stata questa del curriculum dello studente per cui quest'anno alla motorità gli studenti dovranno fa compilare una specie di di punto curriculum una specie di emulazione anche questa scadente dell'idea di un curriculum degli adulti un curriculum lavorativo è pensare veramente male che cosa è l'idea di scuola è pensare che la scuola serva a prepararci al mondo del lavoro la scuola non serve a prepararci al mondo del lavoro la scuola serve a ripensare anche il mondo del lavoro e quindi a pensarsi come cittadini che ammettono al centro appunto come la costituzione vuole la cultura del lavoro non semplicemente appunto un addestramento a quello che serve all'azienda però questo insomma è molto forte cioè c'è molto forte in qualunque dibattito che tu puoi aprire oggi sui giornali della scuola troverai che le preoccupazioni fondamentali siano quella che si chiama il mismatching cioè il fatto che ci siano troppi laureati troppi diplomati che poi non si adattano all'esigenza del mercato del lavoro e quindi come dire noi datiamo diciamo come si può dire retro retro datiamo sempre più una graficamente il momento in cui noi dobbiamo capire quali sono le vocazioni le ambizioni le skill eccetera eccetera i ragazzi in modo che poi le andiamo adattare chiaramente queste folle cioè non soltanto è folle è distopico perché cosa vuole un ragazzo a 14 anni o 15 o a 16 e cosa farà nella vita come dire non è giusto che non lo sappia in qualche modo nel senso che è giusto che poi ognuno in qualche modo diventi se stesso attraverso la scuola e non sia se stesso non assomiglia a se stesso cioè se dobbiamo pensare che la scuola serve a farci capire ciò che siamo perché c'è già un'identità formata a 10 anni e 15 eccetera eccetera quella scuola ha fallito se ci aiuta invece a diventare noi stessi a entrare in profonda connessione con quelli che sono i nostri desideri e ci aiuta veramente a svilupparli attraverso anche delle sorprese attraverso anche delle contraddizioni immaginate come se noi ci ricordiamo a 15 14 15 16 anni cosa eravamo e come siamo cambiate le volte in maniera repentina attraverso incontri che ci hanno spostato radicalmente per fortuna questo la scuola ancora insegna cioè nel senso noi per fortuna abbiamo a scuola dei modelli fino a quando ci 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 daranno dei modelli anche diciamo umani che hanno una parabola tutta teologicamente indirizzata al fatto che poi sono diventati dei grandi imprenditori però noi abbiamo ancora dei modelli da da leopardi a spinozza da tommaso campanella a dante di gente che chiaramente non è stata così integrata nella società è sugli suicidi dissidenti terroristi cioè nel senso poi noi studiamo il risorgimento come una parabola che ha creato l'italia della vita di di mazzini era la vita di un terrorista cioè nel senso che uno che quando è morto nel 1875 era viveva sotto mentite spoglie si doveva nascondere dal neonato stato italiano che era neonato da 15 anni non da poco e non ebbe assolutamente i funerali di stato nel senso oggi abbiamo appunto scuole piazze le statue intitolate mazzini però con la storia comunque parlare di garibaldi anche lui può dire morto esule quindi è chiaro che anche diciamo chi quelle figure che oggi mettiamo al centro di una nostra di un canone culturale che siano socrate o mazzini dante o garibaldi chiaramente sono delle figure che sono sicuramente contraddittorie e che quella contraddizione vale non soltanto perché appunto una parabola interessante da studiare da un punto di vista storico ma anche una parabola interessante da studiare da un punto di vista come dire morale nel senso che questo è per me non possono essere scisse le cose cioè non posso andare a capire qual erano le soft skill di leopardi le parti non aveva soft skill credo era nella sua la sua genialità era data da depressione a dispegazione così una disperazione oggi la chiameremo appunto c'è anche una depressione è un termine sicuramente inadatto ma se uno va a recanati si capisce il progetto folle che aveva monaldo sui suoi figli e il metodo che usava per insegnargli statistica a sei anni che era oggi appunto lo considereremo una aberrazione una follia mentre appunto chiaramente poi quella follia è nato il genio di leopardi non è nato il genio della sorella di leopardi che a un certo punto come dire era destinata alle opere femminili e quindi a certo punto comincia al cucine ma era altrettanto geniale altrettanto quel metodo folle pazzesco repressivo appunto così è un metodo che ha prodotto poi comunque quei capolavori lì senti una cosa e diciamo il mondo dell'editogia che in qualche modo gira intorno alla fiera annaspa sempre dietro al diciamo al tentativo di essere sorretto da un sistema politico senza essere in un qualche modo sorretto cioè nell'editoria non è dato che si abbiano finanziamenti come per il teatro la lirica o no il cinema e questo non voglio mettere in discussione questo però questa cosa però è nel senso che è interessante leggersi libro bianco del cepele che è stato pubblicato un paio di mesi fa perché si vede che durante la pandemia sono stati elargiti diciamo al mondo del libro in generale circa 110 milioni di euro che non sono pochi ma se andiamo a analizzare quel dato io credo che ci sia un un punto molto critico e che cioè diciamo il grosso dei finanziamenti all'editoria degli ultimi anni è stato dato attraverso la carta per il docente e la app 18 cioè quei soldi sono stati spesi sono stati 30 milioni e 30 milioni nel senso che 60 milioni di euro per l'editoria in un contesto del genere sicuramente ed è stato il modo la le sarebbe dovuto essere la leva appunto per il mondo della scuola di fatto è esatto a vedere quel dato lì vediamo che quel dato il 91 per cento della spesa di quei soldi lì è stata fatta online se consideriamo che il mercato dell'online è un mercato in cui praticamente amazon ha un quasi monopolio di fatto noi dobbiamo pensare che lo stato ha finanziato amazon in maniera massiva cioè un soggetto che non paga tasse in italia essenzialmente ne paga veramente molto molto poche e e che di fatto non ha la capacità di educare al mondo rartura nel senso che appunto non è quella filiera quell'infrastruttura di librai bibliotecari eccetera eccetera io penso penso quindi che quelle misure che da da un punto apparentemente sono delle misure che hanno funzionato efficaci penso che siano delle misure sbagliate nella modalità chiaramente io penso che chiaramente deve essere dato eccetera eccetera penso che bisogna sempre lavorare sulla formazione cioè nel senso che non si può pensare di lavorare soltanto su la promozione dei consumi bisogna lavorare anche sulla promozione delle pratiche lavorare sulla promozione delle pratiche vuol dire lavorare essenzialmente sulla formazione sulla formazione alla lettura e questo può essere fatto attraverso appunto vale più un bibliotecario che è capace di educare alla lettura e quindi formare la lettura altri piccoli lettori e quindi quel bibliotecario li va finanziato quelli braio lì va finanziato e la sua e la sua biblioteca esatto cioè va finanziato io penso che per esempio quelle misure debbano essere legate almeno in parte insomma per l'80 per cento a luoghi fisici nel senso per sostenere luoghi fisici non è possibile che il 91 per cento vada sull'online non vuol dire niente quello cioè nel senso che non è anche perché non hai nessun nessun non voglio di controllo nel senso esatto fascista ma che poi solo dice che si comprano un libro e non un cavetto nel giallo di scaricare fino a un certo punto noi abbiamo a cuore come dire la promozione della lettura la formazione della lettura è chiaro che amazon non fa quella cosa lì una domanda mi sono sempre fatto e ti giro diciamo da proprio da docente nel senso capire se secondo te una cosa intelligente o meno quella che sto per dirti cioè nel fare appunto formazione educazione alla lettura cioè al codice testuale non bisognerebbe parallelamente fare anche educazione agli altri codici cioè io mi sono sempre chiesto ma non sarebbe bene io c'ho un figlio che fa la terza media e che adesso hanno c'è un disegno di legge per l'utilizzo dei telefoni e degli ipad in cui tutta la responsabilità viene scaricata sui genitori cioè se un bambino usa troppo il telefonino si multa il genitore la domanda è non bisognerebbe educare anche all'uso degli altri codici non si può cioè si può ci si riesce guarda è una delle cose che che io vorrei fare diciamo il mio obiettivo diciamo che i 270 miliardi del pnr adesso non so nemmeno quali sono se io avessi una possibilità li metterei tutti quasi tutti sulla produzione sull'educazione alla produzione di contenuti educativi cioè è quello che un po come dire in minima parte sto provando a fare con questi due progetti che si chiamano maturati o fuori programma e poi ce ne sarà un terzo che si chiama in cielo e in terra cioè lo dico brevemente durante la maturità il primo lockdown dell'anno scorso a un certo punto mi era venuta in mente questa idea ho visto che la l'offerta di contenuti digitali educativi in italia era molto scarsa molto scarsa disomogenea poco controllata spesso a pagamento eccetera eccetera e quindi ho presentato un progetto al miur anzi stito diciamo e quindi e alla fine del miur ha creduto in questa cosa e con tre cani e radio 3 abbiamo realizzato in un mese e mezzo con quest'altra associazione di insegnanti incredibile che si chiama laudes abbiamo realizzato in un mese e mezzo 250 podcast per la maturità circa 180 ore di audio 4.000 pagine di testo tutte scritte appunto da insegnanti studiosi di non soltanto di quella materia ma della didattica di quella materia quindi non soltanto di di matematica ma della didattica della matematica quindi fisici letterati scienziati che si occupano e tutto gratis letti raccontati anzi da attori che hanno interpretato quei podcast è un prodotto secondo me eccezionale non lo dico soltanto perché sono l'oste e credo che il vino sia buono ma perché appunto ci abbiamo messo appunto un gruppo di di insomma veramente eccellente a realizzarlo ora adesso stiamo facendo questa cosa anche dalle elementari dobbiamo produrne altri 480 elementari appunto fino a alla maturità a prima della maturità ma quello che mi interesserebbe è educare i gli studenti a produrre contenuti digitali educativi o anche appunto non soltanto digitali questo in un'ottica come dire che non è mi sono inventato io ma è frene cioè rodari don milani bruno ciari eccetera eccetera c'è la cooperativa della della tipografia a scuola la corrispondenza fra le classi il tema libero la scrittura collettiva cioè tutti strumenti di produzione di contenuti in quel caso testuali per me oggi chiaramente che possono essere appunto diversamente mediali non per forza multimediali la multimedialità per me non è per forza un valore aggiunto un video educativo per fare un video educativo ci vogliono tanti soldi e una capacità di padroneggiare tanti strumenti diversi e poi non è detto che appunto in contesto in cui noi stiamo sempre davanti a un video la la bidimensionalmente con un tablet o al massimo un computer questo sia lo strumento migliore e penso che per esempio il podcast abbia delle qualità proprio perché monomediale che di o comunque pausci mediale di essere uno strumento educativo molto importante perché il ritmo la memoria la voce il tono l'interpretazione la musica eccetera eccetera creano la possibilità di condividere saperi ma al di là appunto della tecnica del del dei dispositivi video podcast eccetera eccetera quello che mi interessa è che gli studenti non siano soltanto fruitori di contenuti ma siano produttori di contenuti che dobbiamo fare cioè qual è il futuro dell'italia metterci a produrre macchine no perché appunto forse speriamo che non ne serve non ne servono più abbastanza dover pensare appunto ai vaccini in emergenza speriamo insomma che ne abbiamo a sufficienza che si occupa di questa cosa forse quello che dobbiamo immaginare è convertire quello che sono è la vocazione del ministero della cultura in un ministero della conoscenza della produzione di contenuti educativi cosa che nel pnr non c'è per niente nel senso che la razio con cui franceschini chi per lui ha scritto la parte che riguarda appunto il mondo della cultura è totalmente orizzontata verso la trasformazione della della comunità culturale dei lavoratori della cultura italiani in animazione turistica non c'è altro e questa cosa è veramente molto forte penso che sia uno sbaglio epocale penso che noi dobbiamo invece in qualche modo ripensare anche le città attraverso non la rivalitalizzazione dei borghi ma attraverso la costruzione collettiva di centri studi di centri studio dovremo disseminare l'italia di centri studi mentre già adesso la maggior parte appunto della trasformazione dell'italia in luoghi della cultura è sempre 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 adeguata a una frizione di tipo turistico alle volte turistico colto alle volte turistico di basso livello ma se io vado a vedere per esempio una cosa che sta qui faccio un esempio per gli altri il castello di santa severa è un luogo che è stato riqualificato in un modo incredibile ma dentro il castello di santa severa c'è un museo secondo me bruttarello con appunto interazioni multimediali che non servono secondo me non hanno non hanno questa grande funzione didattica e dentro il museo ci sta un ostello per appunto poter entrare nel museo di santa severa e quindi ci sono cento camere cento posti e quindi uno può andarsi a fare le vacanze anche dentro il castello di santa severa che un posto incredibile per storia ma anche per un punto per la scienza ecco io penso che quel posto lì non debba essere i posti non debbano essere immaginati così anche il colosseo non debba essere immaginato come dei palchi debbono essere invece immaginati come dei centri studio e qui poi c'è anche un auditorium c'è anche un devono essere soprattutto appunto centri studi che possano attrarre persone che vengono da tutto il mondo a studiare qui a lasciare opere a fare formazione cioè avere formazione a dare formazione che penso che questo debba essere appunto diciamo la vocazione dell'italia la produzione di contenuti culturali la produzione non soltanto la fruizione non soltanto la come dire la la promozione di contenuti culturali noi dobbiamo produrre contenuti culturali innovativi e soprattutto contenuti educativi degli studenti imparare gli studi insegnare gli studenti a farli è possibile che ci siano 8 milioni e 800 mila studenti che in un anno e mezzo di pandemia hanno solo guardato solo guardato solo guardato video quanti studenti hanno imparato hanno imparato a fare un video di formazione al massimo imparano a fare delle slide io penso che le slide non abbiano non si possono fare le slide in modo artistico non possono essere non possiamo immaginare che le slide siano bisogna insegnare gli studenti a scrivere romanzi a scrive a fare video educativi a realizzare documentari a realizzare podcast di qualità questo bisogna insegnare gli studenti studiare per produrre contenuti di qualità va bene io penso tu devi andare ti ringrazio ti invito il prossimo anno speriamo in presenza buon lavoro grazie bocca al lupo davvero siete preziosi